Non date retta a me, etiche letterarie tra paradigma e paradosso. Questo è il titolo del volume pubblicato da Mimesis, scritto da Cristina Benussi e Jacopo Berti, presentato ieri nel corso del terzo incontro con l'autore, promosso dalla Diocesi nell'ambito della Cattedra di San Giusto. Al centro del volume, una doppia concezione del rapporto con la letteratura, che da un lato deve istruire i lettori, trasmettendo una serie di valori ritenuta necessaria per un progetto condiviso di felicità. D'altro canto però, è quasi imperativo mettere in discussione il messaggio letterario quando esso appare troppo facile, quando il monologo tende a soppiantare il dialogo, quando il testo in definitiva impedisce di esercitare uno spirito critico. Il libro, che si innesta nel paradigma e nel paradosso della comunicazione letteraria, individua anche le nuove sfide che attendono i lettori presenti e futuri, nonché alcune problematiche sulle quali è urgente interrogarsi.